Un documentario per ricostruire la memoria storica della deportazione nel campo di concentramento di Sforza Costa attraverso le dirette testimonianze dei prigionieri. Alla vigilia del 27 gennaio, giornata della memoria, i giovani videomaker dell'Accademia di Belle Arti di Macerata, coordinati dal professor Massimo Puliani, presentano La memoria e garanzia di libertà, corposo lavoro multimediale comprendente due programmi TV, oltre 40 ore di videotestimonianze, editoria e spazi interattivi. La narrazione da parte di protagonisti involontari, di episodi, di momenti integranti dell'esistenza come appunto il 41 e il 45, diventa qualcosa che fa parte di una memoria che noi non vogliamo rimanga limitata a una giornata della memoria, in quanto pensiamo che sia necessario attivare questa manifestazione soprattutto negli animi, nell'ideologia, nella cultura. Ritorniamo quindi a pensare di essere protagonisti 365 giorni della memoria. Il progetto è diventato pluriannale grazie alla presidenza della regione Marche che lo ha inserito nelle iniziative meritevoli per la celebrazione dell'anniversario della resistenza, si è realizzato grazie al coinvolgimento di giovani videomaker che con passione hanno realizzato i servizi televisivi e contattato le persone e i familiari dei deportati. Il documentario di 45 minuti sarà trasmesso domani alle ore 14.30 e alle 22.30 su ETV. Ho intervistato il signor Cartichini di Treia di 88, quasi 89 anni ormai quest'anno e ho filmato una docu-intervista nel quale stranamente si sono riscontrati fatti che normalmente non troveremo all'interno dei normali libri di storia. È stata un'intervista molto bella anche perché il signore ha una memoria ancora molto viva e molto presente su quello che gli è accaduto seppur tanti tanti anni fa.